ben ritrovati mi sono resa conto che dal 22 marzo che non posto più video la cosa mi dispiace non poco ma ci sono vari motivi che mi hanno spinto a sospendere per un po il mio canale dove li sto a raccontare ma comunque dopo una riflessione ho deciso di continuare anche se confesso che ho avuto la tentazione di chiudere baracca burattini e invece no ricomincio quest'oggi 10 settembre quindi quasi sei mesi dopo una lunga pausa di riflessione parlandovi di un libro che ancora non è acquistabile sarà nelle librerie tra una settimana vi dico subito con precisione è reperibile dal 17 settembre sarà preferibile dal 17 settembre ed è un romanzo di roberto carboni di lui vi ho già recensito due libri è uno scrittore che a me piace molto una persona con la quale ho restaurato un rapporto di reciproca stima e fiducia posso definirlo quasi un amico una persona che ha avuto così mi ripeto fiducia in me da avermi mandato in lettura in anteprima quello che è il suo prossimo romanzo il titolo col quale verrà messo in commercio è il mistero di villa lamento casa editrice newton compton sono 288 pagine avrà un prezzo di 9 euro e 90 nel formato cartaceo e lo troverete in formato elettronico a 5 euro e 99 questo libro è differente dai precedenti questa volta abbiamo un racconto un romanzo anzi in puro stile gotico con questo non voglio dire che siamo in epoche lontane no la vicenda è ambientata nel 1968 tenetevelo bene a mente perché questo spiegherà anche il perché di certe cose al giorno d'oggi infatti se necessiti di informazione grazie a internet stando comodamente a casa digitando dei motori di ricerca può risalire a tanti documenti nel 1968 ahimè tutto questo non era possibile farlo le indagini si dovevano svolgere sul campo le ricerche le dovevi svolgere sul campo l'incipit di questo romanzo è veramente un colpo il ritrovamento del cadavere di una giovane ragazza orrendamente orrendamente smembrato di siamo così rinvenuto in un capanno in mezzo ai boschi questo è l'inizio sappiamo che c'è questa ragazza che è stata assassinata e che in quei luoghi da vent'anni aleggia a questa leggenda diciamo di questo uomo di questo gigante di oltre due metri che ogni tanto esce dal luogo dove si nasconde e uccide delle giovani donne la scena si sposta da questa valle che non è in un luogo ben specificato ma riconducibile all'alto adige perché parlano sia italiano tedesco quindi diciamo che siamo nel sud tirolo o in alto adige che dir si voglia cambiamo però subito scena e ci ritroviamo a bologna qui c'è il protagonista di quella che sarà tutta la vicenda paul cialdini è un giornalista scrittore italo americano che si risveglia in ospedale dal coma coma causato gli da una violenta brutale aggressione che lui ha subito nella sua casa di bologna appunto purtroppo questa aggressione e questo coma hanno prodotto nella sua mente un'amnesia temporanea lui non ricorda cosa è accaduto negli ultimi due mesi della sua vita lentamente sarà costretto a fare conti con la realtà due mesi prima la sua amatissima compagna alicia è morta in un incidente aereo i due però stavano indagando su qualcosa di cui però lui non ha memoria alcuna cerca costantemente di farsi venire in mente dove fossero cosa stessero facendo ma niente tornato a casa vaga per quello che è rimasto del suo appartamento visto che chi l'ha aggredito ha distrutto il suo appartamento sventrato divani materasso ribaltato mobili distrutto documenti però alla fine si comincia ad accendere una piccola luce ed ecco che paul parte alla volta di queste montagne arriva in questo luogo e qui inizia tutta la storia il primo luogo in cui lui si ferma a questo piccolo paese santa alzina se non ricordo male che è molto ostile ai agli stranieri quelli che non sono della zona ma che comunque sono molto più propensi ad accoglierlo di quanto non accada un po più su ossia nell'hotel chiamato villa lamento è così soprannominato perché questo hotel che sorge su quello che rimane di un antico monastero è così pieno di spifferi di rumori della natura il vento che si insinua tra le fessure delle pietre degli alberi da creare una specie di gioco sonoro di urla e di lamenti urla e lamenti che riecheggiano i tormenti di chi venne chiuso nell'ex convento perché una volta dismesso a convento divenne anche una clinica psichiatrica dove venivano ahimè rinchiusi non solo le persone con problemi mentali ma anche i bambini quindi un luogo veramente intriso di tristezza di male e soprattutto di dolore qui inizierà l'indagine di paul che entrerà in contatto con vari personaggi e abitanti dei luoghi non vi voglio dire altro si arriverà a una giusta e logica conclusione ma la cosa che ne preme dirvi è lo stile narrativo utilizzato da roberto carbone che può sembrare fin troppo pedante precisino pignolo ma in realtà ha un suo perché lui usa determinate parole determinati tipi di descrizione dell'ambiente che diventa esso stesso uno dei protagonisti della vicenda proprio per creare quell'atmosfera tipica del romanzo gotico io ve ne parlai già nei miei video sul romanzo gotico il romanzo gotico non è basato sulla sull'incontro con il male o con il mostro con il cattivo è bensì basato sullo stato di angoscia che permea i luoghi i personaggi stessi questa presenza incombente ma al tempo stesso intangibile di un qualcosa pericoloso di malvagio diciamo pure di demoniaco ecco tutta la vicenda si svolge per paul e gli altri personaggi che via via appariranno nella storia sempre sotto questa specie di cappa di piombo che blocca quasi il respiro c'è sempre l'attesa del dell'evento che scatenerà il male assoluto che scatenerà la malvagità che scatenerà quel qualcosa che tutti temono che tutti paventano che tutti attendono con angoscia il finale è bellissimo c'è una scena che a me ha colpito molto dell'anticipo ma non ve la rivelo quando un personaggio si accosterà a paul e gli sussurrerà delle parole all'orecchio che faranno veramente capire il quibus della vicenda sei parole semplici che leggeremo anche noi nelle righe successive e che finalmente ci faranno comprendere quello che è stato magari un qualcosa di frainteso un indirizzarsi verso alcuni personaggi scartandone altri ma per un presupposto errato non vi voglio dire di più vi posso dire che questo romanzo differenza dei precedenti di roberto carboni è stato volutamente scritto dall'autore questo me lo ha detto lui proprio volutamente con il ritmo di una sceneggiatura infatti ci sono atto primo atto secondo proprio per dare una dimensione al lettore quasi di poter assistere diciamo a un film a una serie televisiva proprio perché questa scansione degli avvenimenti con un antefatto quello del ritrovamento del cadavere della fanciulla nel bosco poi l'inizio l'atto primo cioè il risveglio diciamo dell'eroe nel nostro caso paul che inizierà la sua ricerca l'arrivo nel luogo dove appunto tutto ha avuto inizio la ricerca la l'andare in giro a cercare le persone coinvolte le ritrosie di alcuni nel confessare sbagli del loro passato il tirare le fila di tutte queste informazioni e la scena finale ossia la catarsi dove tutto arriva a un finale dove tutto ha una spiegazione ribadisco non dimenticate durante la lettura che la vicenda è ambientata nel 1968 quindi ovvio che in certi momenti di pericolo scusate uno con la mentalità odierna a dica va bene prendi il cellulare chiama qualcuno non ci sono i cellulari nel 1968 vorrei sapere di chi era figlio tizio doverà faccio una ricerca in interno non c'era inter non avevamo nulla di tutto questo se volevamo sapere qualcosa dovevamo veramente andare le persone per uffici anagrafi a cercare tra le carte sempre ammesso che fossero state catalogate in maniera ordinata che altrimenti non se ne veniva più a capo insomma è tutto collocato in un tempo ben definito che quindi spiega anche le mancanze di velocizzazione di certe cose perché proprio mancano i mezzi tecnici per velocizzarle la forma mentis dell'epoca e soprattutto il racconto che è veramente un prendere per mano lettore scusate e portarlo nuovamente in quelle atmosfere gotiche che ahimè gli scrittori di oggi non sono più in grado di ricreare roberto carbone con un lungo studio anche filologico dell'utilizzo dei termini più acconci per una narrazione di questo genere è riuscito a riportare una specie di romanzo gotico ambientato però diciamo nell'epoca moderna il il libro di ridò gli estremi il mistero di villa lamento editato appunto da newton compton e sarà fruibile sia in formato elettronico che informato cartaceo a partire dal 17 di settembre quindi tra una settimana chi vuole può anche prenotarlo online vi assicuro è stata veramente una sorpresa roberto carbone ripeto è una persona con la quale io riesco a relazionarmi in maniera molto piacevole è una persona di grande grandissima disponibilità è una persona molto garbata simpatica e racconta anche aneddoti divertentissimi abbiamo scoperto di avere delle cose in comune proprio anche temporali che perché sì io sono un po più grande ma siamo lì e frequentiamo un po gli stessi luoghi e quindi c'è anche un'affinità personale con questo scrittore ma davvero ha avuto la gentilezza di inviarmi in anteprima la lettura di questo suo ultimo lavoro proprio perché ci teneva a sentire un po quello che era il mio la mia recensione il mio gusto o non gusto nella lettura e ho detto a lui subito la frase non molto aulica ma mi è piaciuto un botto ma veramente mi ha piaciuto un botto spero che questo accadrà anche a voi a tutti coloro che vorranno leggerlo e nel caso non conoscesse questo autore vi invito davvero a seguirlo è uno scrittore che che neanche dei corsi di scrittura creativa e di sceneggiatura quindi una persona che conosce veramente il mestiere i suoi libri sono tutti godibilissimi sono escono dal binario del solito giallo mistero poliziesco con cliché che ormai a furia di dai e dai cominciano un po a stancarmi roberto carboni è uno scrittore che sta facendo la differenza quindi se amate leggere dei gialli che però abbiano anche qualcosa di misterioso ma il misterioso non c'entra niente con l'arcano non ci sono evocazione di spiriti non ci sono cose trascendentali non ho poi tutto terra terra anche in questo ultimo libro appunto su villa lamento scopriremo che tutto questo male questa idea della presenza del demonio di qua o chissà qual altra entità malvagia si riduca poi alla triste miseria umana e lo dico spesso le persone hanno dentro di sé tutte nessuna esclusa un piccolo angolo oscuro c'è chi questo angolo oscuro ce l'ha piccino lo controlla perché fa prevalere la luce nella sua vita e c'è chi invece lascia spazio questa tenebra e da essa si fa soverchiare e quindi ci ritroviamo ad avere a che fare con persone in carne ed ossa che però sono il male e la miseria umana con questo spero di avervi quantomeno incuriosito su questo romanzo e su questo autore roberto carbone trovate altri due video recensione sui suoi libri nel mio canale se mi riesce mi ricordo in fase di pubblicazione del video magari vi metterò il link ai due video a lui inerenti con questo è tutto tornerò presto perché ho fatto un lavoro molto molto particolare perché ho idea di farci un video molto molto approfondito su una determinata cosa ma di questo ne parleremo la prossima volta per ora ben ritrovato a tutti è un bacione come arrivederci presto ciao